La vittoria di Ponzacco diventa la plastica realizzazione della concretezza. L'Arezzo doveva indossare la tuta per portare a casa l'intera posta. Lo ha fatto con umiltà e abnegazione e in un campo reso pesantissimo della pioggia caduta ha saputo adattarsi e colpire nel momento opportuno. La elezione di terra nuova è servita e la lotta al vertice prosegue. Alla fine festa grande sotto lo spazio riservato ai sostenitori amaranto che in poco più di 200 hanno sfidato l'intemperie per restare vicino al vecchio cavallino che corre sicuro verso un centenario da sballo. La lettura delle formazioni ci ricorda come indiani abbia privilegiato la prosa alla poesia. Il primo acuto si registra dopo appena 4 minuti con questo tiro piazzato dalla media distanza. Al diciassettesimo sempre da palla ferma l'Arezzo va in gol con Persichini ma l'arbitro al nulla per posizione irregolare dell'attaccante. Brivido è questa volta non per il freddo. Al ventitresimo Ponzacco pericoloso con Lici la conclusione finisce fuori di poco. Al trentunesimo si fa vedere il Larentino Mencagli ma il suo fondo finisce tra le braccia del portiere Trombini sprecando una buona opportunità. Da rilevare il mischione al trentasettesimo nato dopo una punizione di Settembrini la palla finisce a lato dopo un batti e ribatti in area. Il primo tempo si chiude con un assalto di Gucci ma la sua conclusione è scialato. 0-0 al termine dei primi 45 minuti e tutti a bere il provvidenziale tè caldo. La ripresa inizia sempre sotto il segno della pioggia. Ci vorrebbe a Mr. Rain ma è rimasto a Sanremo. Al quarto Trombini para con perizia la conclusione di Remorini. Poi all'undicesimo è Settembrini che si rende pericoloso ma la conclusione accarezza il palo. Settembrini uomo di lotte e di governo è ispirato e al diciassettesimo impegna ancora Pagnini. La partita sale di tono e al venticinquesimo un corpo a corpo tra il capitano dell'Arezzo e Pagnini rischia di accendere la miccia. Dopo quattro minuti arriva l'episodio decisivo. Il campo è pesante ma Lazzarini da poco entrato si inventa un assist per Cantisani che trova il tempo giusto per la battuta e batte l'estremo difensore Ponzacchino. La svolta del match arriva dal mercato dunque dalla panchina. Lo stesso Cantisani potrebbe colpire altre due volte. Prima proprio allo scadere e poi al quarantottesimo. Ma in entrambe le occasioni non trova la forza necessaria. Il triplice fischio del salernitano Striamo chiude i giochi. L'Arezzo con la tuta blu si porta a casa i tre punti per inseguire il suo sogno.